Grazie alla presenza di molte cave di argilla presenti su tutto il territorio, ancora oggi in Calabria la sua lavorazione rappresenta un'importante arte artigianale. Il fuoco va alimentato continuamente per almeno 24 ore. Si usano scarti di legname, segatura e sansa. Questo vaso che andremo ora a realizzare è la famosa pignata. E lo mettiamo a cuocere. Grazie. 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 Grazie.